A distanza di 10 anni il sito di Bussi è ancora contaminato, non è stato messo in sicurezza e non è stato bonificato. Questa è la denuncia del Movimento 5 Stelle abruzzese che presenta un esposto in procura a Pescara. I dettagli sono stati illustrati dalla consigliera regionale Sara Marcozzi. Dalla scoperta della discarica Tremonti, osserva, è un quadro desolante, fatto di omissioni e errori che hanno causato e continuano a causare la contaminazione delle falde acquifere e dunque danni ambientali enormi. Quali sono le ragioni dei ritardi, quali le eventuali responsabilità? Questi gli interrogativi che i pentastellati rivolgono alla procura. Mentre oggi qualcuno parla di reindustrializzare il sito, in realtà l'area di Bussi e di Piano d'Orta risultano ancora contaminate. Dunque sono ancora pericolose a distanza di 10 anni dalla scoperta. Noi vogliamo capire se sono stati commessi degli errori o delle omissioni nella messa in sicurezza dei siti. I grillini chiedono di chiarire in particolare due aspetti. Accertare se costituiscano reato a carico dei responsabili dell'inquinamento o dei proprietari dei siti le omissioni e gli errori che hanno condotto all'attuale stato di contaminazione. E accertare se possa configurarsi un reato di natura omissiva anche da parte del Ministero dell'Ambiente. laddove non si è intervenuto o non intervenga in sostituzione in danno ai fini dell'immediata messa in sicurezza d'emergenza dei siti contaminati ricompresi a Bussi. La messa in sicurezza è una misura di emergenza. Sono passati 10 anni, l'emergenza c'è da 10 anni e evidentemente è troppo tempo. Grazie.